Avete incontrato la mamma giusto di Pantani e uno dei suoi migliori amici, il suo miglior amico, la persona che gli è sempre stata vicino nonostante tutto, Giumbo. Cosa vi ha raccontato di lui? C'è una frase che si sente nel film che dice se Pantani fosse nato nei boschi o a San Martino di Castrozza probabilmente la storia sarebbe stata differente. Sì, il racconto di Giumbo e il racconto poi dei amici di Cesenatico è un racconto molto bello perché ci restituisce un ragazzo estremamente semplice. Poi questi personaggi mitici in qualche modo sembra che siano complessi, complicati, in realtà Marco Pantani finiva le gare, andava giù, si mangiava la piadina e andava con gli amici. Questo era, gli piaceva fare le cose semplici e poi nel film si vedono proprio le cose semplici che fa con loro. Giumbo ci ha raccontato quegli anni, ci ha raccontato la difficoltà di quegli anni lì, cioè come vedeva il suo amico magari iniziare a subire quello che gli stava accadendo e spesso magari mi diceva sai provavo ad aiutarlo, mi rendevo conto che magari su certe cose non ci riuscivo, no? Rimane ovviamente un'amarezza anche in questo, per cui è sempre un racconto bello da una parte però dall'altra c'è sempre un periodo di tristezza. Posso aggiungere una cosa? Ricordo una volta parlando con Giumbo e gli fece alcune domande del rapporto che Marco aveva con la droga perché serviva a me nel percorso del personaggio. Lui mi guarda e mi dite una risposta che non mi aspettavo, però forse era solo un pregiudizio il mio, per questo non me l'aspettavo. Lui mi disse Marco aveva paura della droga, questa cosa cambiò la mia visione totale di quella che poi era questa sua tendenza e il suo percorso a venire da quel momento in poi e mi disse era spaventato perché pensava che lui non voleva stare vicino alla gente che faceva questa roba qua e allora la domanda era spontanea e poi che cosa è successo? E poi è successo che la fragilità ha preso il sopravvento, perché? Perché credo se tu vivi in una casa dove i tuoi genitori magari non ti accolgono, è un esempio, è chiaro che tu dici beh andrò da un'altra parte, nonostante la natura vuole che tu stia lì e basta, ok? Questo è solo un esempio, mi serviva per... Quindi credo che lui da quella paura e dal fatto che avesse paura ha detto io non ci ricavo nulla, anzi tanto vale allora schiantarsi in un modo totale in quest'altra direzione e mi ha aiutato questo poi a sfumare quelle sue paure, quella sua timidezza, però quella sua voglia di andare contro tutto a quel punto. C'è una scena, ci sono tante scene nel film che mi hanno colpito, un'altra di quelle rispetto a quelle che abbiamo già elencato è quando Pantani piange, c'è una scena in cui lui piange ed è dopo quando lui, allora quando viene trovato con il valore del matogrito superiore alla media di 2 punti, 51.9 e il massimo era 50, diciamo lui ha una reazione furiosa, spaccando con un pugno la finestra dell'hotel, poi torna a Cesenatico e ricomincia quasi a voler ricominciare a pedalare e c'è una persona che lo insulta per strada, c'è chi lo appoggia e c'è chi lo insulta, lui questa cosa gli fa malissimo perché capisce che la gente non crede più nel suo talento ed è quello forse il motivo per il quale... è l'unica scena in cui lui si vede Pantani, in cui lui crolla in un pianto davanti casa. Sì, infatti c'è il racconto di Tonina in quella scena lì, è proprio successo così, sì, c'era un articolo di Gianni Mura molto bello di qualche anni fa che parlava di Pantani e diceva che la percezione che aveva avuto Mura di quello che accadeva a Pantani era come se Pantani fosse un ermellino, no, gli ermellini hanno questo mantello meraviglioso bianco che però basta una piccola macchia per metterli in crisi e questo è successo, Marco andava in giro, sapeva del suo talento, il pubblico lo amava per il suo talento, ma sentirsi mettere in discussione proprio la sua forza maggiore, questo lo mandò in crisi di più di tutto quanto, perché sai, quando i ciclisti, questo è uno sport molto duro il ciclismo, comunque passi tantissimo tempo da solo, fai tantissimi chilometri, per cui è veramente uno sport di fatica e dunque sapere che puoi emergere in quello sport, sapere che è quella determinazione, quelle capacità che poi vengono messe in discussione, significa mettere in discussione della tua vita. Ma perché secondo voi c'è stato tutto questo accanimento nei confronti di, cioè se gran parte delle energie che si sono sprecate nell'accanirsi contro Pantani fossero magari state deviate verso un tentativo di ripulire la sua immagine, no? Cioè perché c'era necessità di fare un film per riabilitare l'immagine di Pantani, secondo voi? Pubblicità, perché ci si fa pubblicità. Perché sai, parlare di Marco Pantani, comunque portare Marco Pantani in un tribunale sicuramente dà visibilità a tanti, quelli erano anni anche particolari, si usciva comunque, era la rivista di Tangentopoli, erano di quel periodo, per cui insomma, erano stati pochi anni prima, per cui dopo diventa anche una possibilità di farsi notare. Ma poi Marco Pantani esce, diciamo, tra virgolette, dal ciclismo per una concomitanza di cause. Si preparava intanto il percorso a chi avrebbe per sei anni vinto il Tour e si scoprì poi dopo che invece lì era un doping reale, vero, ma soprattutto a livello di sistema, ok? E Marco Pantani dava fastidio, perché Marco Pantani catalizzava su di sé l'interesse di tutti quanti. Molti ciclisti avevano trovato in lui la possibilità di raccontare, di dire anche le difficoltà che avevano avute. Marco Pantani involontariamente diventa portavoce di questi ciclisti già al Tour del 98, con la protesta dove c'era una foto bellissima di lui seduto per terra insieme agli altri ciclisti dopo gli scandali della festina. E dunque sicuramente poteva diventare scomodo. Catalizzava molto l'attenzione di tutti, era in un periodo in cui si voleva far vedere che invece la lotta al doping veniva fatta in modo serio. Tieni conto che Pantani viene fermato anche due anni dopo a Montecatini con quella famosa siringa con dell'insulina che viene trovata, prima nella sua stanza, poi non c'era, poi era nel corridoio, poi era chiusa, poi non c'era l'insulina, alla fine non c'era nulla. Intanto lui si è perso altri nove mesi e tutti l'hanno infamato per quello, ma non esisteva neanche il fatto lì. C'è un'altra cosa che secondo me però va sottolineata, il fatto che quelli erano gli anni anche del calcio dove si vedevano ste cosce enormi e che in qualche modo forse spostare l'attenzione al ciclismo era uno degli interessi dei poteri, non so quali, però questa situazione qua sicuramente poteva, perché chiaramente se avessero portato avanti quel tipo di inchieste e quant'altro le cose sarebbero andate magari in un'altra direzione e invece occorreva che qualcosa di molto forte coprisse anche questo. È interessante poi che giustamente un giornalista faccia questa domanda, però secondo me sono stati proprio i giornalisti a creare ciò che a Marco non interessava. Ad oggi magari tante persone vorrebbero essere solo dei personaggi, o nel bene o nel male. A Marco non interessava essere un personaggio, punto e basta. Tant'è che la sua rabbia e la rabbia della sua famiglia nei confronti dei mass media era dichiarata. C'è poi la parte centrale che è dedicata al processo, al processo nel quale emergono dettagli molto importanti ovviamente. La manomissione della proetta viene spiegata nei dettagli, io non mi addentro troppo perché poi ovviamente nel film è chiarito perfettamente tutto. C'è anche la mano della Camorra, della Camorra, che appunto voleva a tutti i costi che Marco non finisse il Giro d'Italia, giusto? Sì, questo tra l'altro era già evidente pochi anni dopo. Nel senso che quello che diceva Lanzasca lo dice quasi subito, ma nessuno va ad approfondire. Ci vorrà poi delle intercettazioni e la procura di Forlì che va a riprendere in mano tutto quanto. Tieni conto che il fatto che la Camorra possa essere intervenuta a livello di business in un discorso del genere ormai è abbastanza acclarato, ma non è una novità. Non è la prima volta che la Camorra interviene anche in eventi sportivi. C'è un campionato noto che è stato messo in discussione più e più volte, con minacce anche ai giocatori. Il punto è che dobbiamo stare anche attenti però a non pensare che tutto si risolva con la Camorra, perché poi spesso in Italia si diceva che è stata la mafia e allora vale tutto, no? Tanto nessuno può combattere queste entità assurde, no? In realtà no, la Camorra si è inserita in un contesto che gliel'ha permesso, come sempre, come un virus si inserisce in un contesto che in qualche modo magari era già indebolito e così è accaduto lì. La Camorra si è inserita perché in quel contesto Spantani era sacrificabile, poteva essere capospiatorio.